E' morto nella notte all'ospedale Cotignola di Ravenna l'ex patron del Palermo Calcio, che riportò in Serie A dopo 31 anni e quindi in Europa, e del Venezia Maurizio Zamparini. L'imprenditore, 80 anni compiuti lo scorso giugno, nato a Bagnaria, Arsa, ed è ceduto intorno alle 2 per le complicazioni legate ad un problema al colon, che ne aveva determinato il ricovero nei giorni scorsi. Già alla vigilia di Natale, Zamparini era stato ricoverato ed operato d'urgenza all'addome per una peritonite all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove era anche stato per alcuni giorni in terapia intensiva, in seguito all'intervento chirurgico per la gravità del quadro clinico. Dopo alcuni giorni si era ripreso al punto da permettere il ritorno a casa, anche se il quadro complessivo della sua salute non era dei migliori. Nell'ottobre scorso, Zamparini aveva subito un colpo devastante, dal quale forse non si era mai ripreso del tutto. La morte del figlio più piccolo, Armando, 23 anni, nato dalla seconda moglie Laura Giordani, scomparso a Londra in seguito ad un'ischemia. Zamparini lascia altri quattro figli, Silvana, Greta, Andrea e Diego, avuti dalla prima moglie. Vulcanico, focoso, irriverente, nel mondo del calcio aveva la fama di mangia allenatori, soprattutto quando era presidente del Palermo. In Friuli Venezia Giulia, però, Zamparini forse era più noto per la catena Mercatone Z, nome che derivava dalle sue stesse iniziali di Palmanova. Un legame mai estintosi, quello di Zamparini con le realtà del Friuli Venezia Giulia, si ricorda infatti un progetto per lo sviluppo turistico di grado, andato in fumo nel 2013, e sempre nello stesso anno, una sponsorizzazione di 240 mila euro alla Triestina, un accordo di collaborazione con il Palermo. Si era arrivati persino a pensare a Zamparini come presidente della Triestina, cosa impossibile perché, allora, già presidente del Palermo.